Voglio vegetare. Non voglio attendere l'evoluzione. Non voglio coprirmi gli occhi feriti dalla sua luce. Voglio vegetare. Eppure non posso fare a meno di crescere. C'è un fruscio nella mia mente, come una talpa che scavi, come un tarlo che roda. Certo, mia moglie non lo sente. Il fruscio si ferma. Perché si ferma? Continua. Perché continua? Basta. M'esaspera. E l'evoluzione. Massilla. E la notte resto sveglio. Odo raspare sulla mia mente. Sento premere e frusciare. E' un supplizio. E' una tortura. Una mano mi serra e allaccia un nodo cui, sulla gola, inesorabile, che mozza il respiro. No, no, basta. Ma va via, lasciami in pace. Lasciami vivere per come sono. Commento. Non è possibile. L'uomo deve evolvere. Ed è solo dinanzi alla sua evoluzione. Noi non mettiamo in atto l'evoluzione. E' l'evoluzione che mette in atto la sua luce in noi. Noi non mettiamo in atto la sua evoluzione. Noi non mettiamo in atto la sua evoluzione. M'è pace. Non è possibile. La sua evoluzione è un'escalante.